7 dicembre, buongiorno a tutti, ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV, questa è la rassegna stampa Occhio ai giornali, tutte le mattine alle 7.30 ci ritroviamo insieme per sfogliare i quotidiani Carlino Corriere Adriatico, lo facciamo leggendo i titoli più importanti delle pagine della provincia di Piesolurbino, prima però diamo uno sguardo al santo, oggi è un santo importante soprattutto per Milano perché è Sant'Ambrogio, Sant'Ambrogio Vescovo, Sant'Ambrogio oggi è la festa degli Obey Obey, per chi vive a Milano una fiera importante, allora Ambrogio non era nato a Milano ma a Treviri nella Gallia verso il 339, il sole è sorto alle 7.28, tramonterà alle 16.31 minuti, vediamo il tempo per la giornata di oggi, oggi avremo un cielo parzialmente nuvoloso per la presenza di nuvole basse alternate e schiarite nelle ore centrali, le temperature sono senza variazioni di rilievo, i venti sono di brezza tesa, moderati lungo la fascia costiera, attenzione come sempre alle foschie o ai locali banchi di nebbia nelle ore più fredde della giornata, per domani giornata di festa, giornata dell'immacolata, 8 di dicembre, ancora cielo poco nuvoloso in particolare, nuvole basse lungo la costa e che si dissolveranno durante le ore centrali della giornata, le temperature sono in lieve diminuzione, quelle minime e in aumento invece le temperature massime. Per la giornata di venerdì, ancora un tempo più o meno fotocopia, quella di oggi e quella di domani, cielo poco nuvoloso con venti di brezza tesa dai quadranti occidentali, indicazioni di tempo stabile anche per la prossima settimana. Cominciamo allora a dare uno sguardo ai giornali, il Corriere Adriatico. Allora il Corriere Adriatico mette in evidenza in apertura l'arrivo di altri 500 migranti nella nostra provincia, ma i volontari diminuiscono. La prefettura cerca alloggi, intanto tra gli ospiti cala la disponibilità a rendersi utili. Dunque emergenza migranti, i flussi sono fermi, ma si guarda già al 2017 perché il prossimo bando per l'accoglienza dei richiedenti asilo salirà ulteriormente. Ne ha parlato il prefetto di Pesaro Luigi Pizzi ieri mattina a margine della stipula del dodicesimo protocollo per il volontariato dei migranti nei comuni che li ospitano sul referendum costituzionale. Alle spalle iniziano le grandi manovre del Partito Democratico. Da sinistra vedete Amati, Bora, Morgoni, Agostini, Lucciarini e il sindaco di Senigallia Mangialardi. Poi vedremo tra poco il report di Ricci per i suoi 900 giorni da sindaco e poi la cronaca con Cagli che purtroppo c'è stato un rugo in casa dove è morta una donna, una donna anziana. E questa è la prima pagina del Corriere Adriatico. Entriamo nelle pagine interne e partiamo dal Via Libera al nuovo comune Colli al Metauro che c'è stato ieri in Consiglio regionale per due voti soltanto. Fischi in regione contro la maggioranza. Rapa si astiene, Talè non partecipa, passa con 14 sì dunque e 12 no questa legge. Allora con l'aiuto della grafica adesso vediamo chi sono stati i 14 sì, i 14 che hanno votato a favore e i 12 no e poi anche l'unico astenuto. I favorevoli sono, lo vedete in questa grafica, sono Andrea Biancani, Gianluca Busilacchi, Anna Casini, Luca Ceriscioli il presidente della regione, Fabrizio Casetti, Francesco Giacinti, Enzo Giancarli e Luca Marcone. Poi ancora il secondo cartello dei favorevoli Antonio Mastro Vincenzo che ha presieduto la seduta, Francesco Micucci, il fanese Renato Claudio Minardi, Angelo Sciappichetti, Gino Traversini e Fabrizio Volpini. Quelli contrari, quelli che erano contrari a far passare questa legge, Sandro Bisonni, Mirco Cherloni, Piero Celani, Pier Giorgio Fabri, Peppino Giorgini, Elena Leonardi, Giovanni Maggi. Poi ancora contrari a questa fusione Marzia Malaggia, Jessica Marcozzi, Romina Pergolesi, Sandro Zaffiri e Luigi Zura Puntaroni. Gli astenuti, dicevamo uno soltanto, Boris Rappa, mentre Federico Talè, sempre l'ex sindaco di Mondavio, è uscito, non c'era. Quindi questo è quello che è successo ieri, il Comitato contro la fusione farà ricorso alla Tare, era presente ieri in Consiglio, ci sono stati anche momenti di dissenso. Carloni dice storico errore per la bocciatura di Saludecio in Romagna, si è bloccato l'Iter, questa è la pagina del Corriere Adriatico. Andiamo avanti, quella di Fano. Quella di Fano sisma un salasso da 430 mila euro, il Comune è presente il conto, sono state rese note le spese di tutti gli interventi, metà del budget è finito per la Chiesi Santa Maria Nuova che è ancora chiusa, tra l'altro il Consiglio è stato riconvocato nella sua sede naturale di Via Nolfi, lesionata dalle scosse. L'emozione di Falcucci, il sindaco di Castel Sant'Angelo sul Nera, colpito duramente dal terremoto, Mauro Falcucci Fanese, il sindaco ospite dell'Aula per raccontare il dramma e la voglia di ripartire. Scuole antisismiche e sicure, rassicurante l'incontro tra l'amministrazione, le dirigenze scolastiche, i genitori degli studenti, servizi educativi, la direttrice Peroni dice stabili comunali sono stati tutti visionati, nessun problema emerso. La Flaminia diventa un museo con la tecnologia rivive la storia, nasce come patto di cooperazione e oggi inaugura gli spazi accanto all'Arco d'Augusto. In questa fotografia vedete Paolo Clini, Massimo Seri, Stefano Marcheggiani e Fabio Tombari alla presentazione di questo nuovo museo, c'è un progetto ricorrente virtualmente il patrimonio archeologico lungo la consolare Flaminia. I semafori invece si rifanno il look, sono stati stanziati 16 mila euro per rimuoverli, adeguati gli impianti di Viale Primo Maggio e nelle vie Roma, Negusanti, Buozzi e in via Palazzi. Da Cagli dicevamo muore la cronaca, muore avvolta dalle fiamme un'anziana di 90 anni, ha perso la vita in un incendio nella sua casa di Cagli intorno alle 8 di ieri sera, le urla della donna hanno richiamato la nipote che ha tentato inutilmente di salvarla, il fular sulla stufa ha innescato il rogo che l'ha trasformata in una torcia umana e la regione stanzia fondi per pulire i fiumi in arrivo 200 mila euro per quelli del Cesano, del Conca, del Foglia e del Metauro. Dalla Valle del Cesano invece la discarica, la discarica gestione post-mortem, ecco le linee guida per il 2017, delibera Barchi, poi seguirà la ripartizione dei costi del servizio dei 12 comuni. A Marotta la spiaggia di Natale è sul lungomare, i bimbi colorano via Marcù, Viale Carducci, tutto pronto per i babbi Natale che arriveranno dal mare, domani apriranno l'atteso calendario di manifestazioni. La cioccovisciola invece a Pergola sarà l'insegna della solidarietà, il sindaco di Pergola Baldelli ha voluto dare un sostegno concreto alle popolazioni terremotate. Senigallia, le famiglie povere non pagano la mensa, il comune va da Equitalia per riscuotere in due anni e mezzo 14 mila pasti consumati e non liquidati. All'appello mancano adesso 80 mila euro. Queste sono i titoli delle notizie sul Corriere Adriatico. Adesso invece andiamo sul resto del Carlino che in evidenza mette la notizia dell'uscita di scena, possiamo dire, dopo otto anni di lavoro del procuratore di Pesaro, Manfredi Palumbo che lascia, il suo incarico è terminato a settembre, è ancora lì, sta facendo praticamente, ha lasciato un memorandum con le cose, una eredità giudiziaria, quello che ci sarebbe da fare in realtà per chi arriverà dopo di lui. E l'eredità è l'allerta, è un'allerta del procuratore, un invito soprattutto questa regione, dice Manfredi Palumbo, necessita di una commissione antimafia. Qui convivono molte mafie, dice Palumbo, anche se questa non è una terra di mafia. Il quadro sta cambiando, la sua visione è una visione pessimista per il futuro, il livello di risposta non sarà quello che è stato dato fino a questo momento. Poi parla del contrasto contro il crimine, un crimine che è stato contrastato come pochi altri. L'analisi è sempre appunto del capo della procura, Pesaro è la provincia che ha lottato meglio. Poi c'è questa, tra i procedimenti più importanti, ricordati gli ultimi. Se vogliamo andare un po' più nel dettaglio, ci sono anche quelli che riguardano alcuni fatti accaduti a Fano, come l'arresto dei cinque albanesi sbarcati con due tonnellate di droga, trasportati a bordo di un gommone. Ma ricorda anche per esempio il pesce azzurro, ricorda Fiscopoli, il sequestro rapina nella villa di Atos Rosato e poi chiaramente l'omicidio ferri e l'acquato a Lucia Annibali. Ci sono due pagine sul resto del Carlino di questa mattina. La pagina di Fano invece è per un traffico a luci rosse scoperto anche e che ha dei risvolti anche sulla nostra città. Un traffico a luci rosse, dicevo, per quanto riguarda quei famosi centri massaggi, 20 euro per lungo massaggio. Dentro c'erano prostitute cinesi. In città si gestivano gli affari di cinque ragazze ventenni ridotte a condizioni di schiave. Anche se gli otto arrestati non sono di Fano, ci sono molti cinesi e poi due italiani che però risiedono a Milano. Sono otto misure cautelari e questa tratta delle gialle contamina appunto anche la città di Fano, anche se poi l'indagine è partita dal nord Italia, riguarda il nord Italia. Un prelievo multiorgano invece al Santa Croce di Fano. Un uomo è deceduto lunedì. Dona, Rini, Fegato e Corne. La regione tira dritto ecco quella fusione, tira dritto sulle due fusioni. Il no di Montemaggiore è stato archiviato. Talè del Partito Democratico esce e Rapa si astiene ma la maggioranza tira dritto. Dal primo gennaio 2017 dunque Montemaggiore al Metauro, Saltare e Sarungarina lasceranno il posto al nuovo comune fuso Colli al Metauro, mentre Barchi, Orciano, Piagge e San Giorgio di Pesaro diventeranno terre roverische. Ceriscioli parlano, si parla di autoritarismo, l'autoritarismo di Ceriscioli, di Minardi, di Biancani e Traversini che guidano il voto per creare Colli al Metauro. Decisive invece l'uscita di Talè e la stensione arrivata da un altro componente della maggioranza ovvero Boris Rapa di Uniti per le Marche che poteva fare certamente la differenza. Un atto di responsabilità ma io direi forse più un atto di coraggio più che di responsabilità. In Romagna invece non lo si è fatto perché come è stato ricordato anche ieri nel telegiornale e lo ha ricordato il consigliere regionale Mirko Carloni che ha votato contro per un fatto analogo cioè Saludecio che non voleva fondersi con altre due località dell'Emilia Romagna ha fatto saltare il banco e praticamente il presidente della regione dell'Emilia Romagna ha detto io non me la sento di fare e di votare questa legge per la fusione e quindi è saltato tutto e quindi in Romagna tutto è rimasto come prima. Questa è la pagina di Fano e Valle del Cesano. Poi la piccola gemma che è diventata una piccola diva di Natale perché è stata scelta questa bambina di Fossombrone, bambina di 5 anni, per lo spot televisivo della Ferrero. È la figlia del titolare della ferramenta Serra Allegri di Fossombrone, è una bambina protagonista insieme ad un altro bimbo di 7 anni dello spot di Natale della Kinder Ferrero ed è qui immortalata appunto in questo fermo immagine la bambina che è protagonista di questo spot. Telecamere scatenate invece a Monbaroccio e nell'Interland per seguire i mercatini di Natale e quant'altro. Sono tutte notizie che potrete leggere sul quotidiano di questa mattina. Mi fermo con l'ultima pagina, quella di Fano del Carlino, il torrente Arzilla è a rischio esondazione, il consigliere del PD fumante chiede l'intervento del consorzio di bonifica, il livello è di guardia, situazione gravissima portata alla luce dal comune dopo il taglio dell'erba lungo il torrente. Ok ci fermiamo qui, è tutto per la rassegna stampa, Occhio ai giornali torna domani mattina alle 7.30 in diretta, stasera invece alle 20.30 c'è il telegiornale, Occhio alla notizia. A voi tutti l'auguro di una buona giornata, arrivederci.